Innanzitutto, ciao a tutti da Marina Persi, come state? Io vi voglio dire solo una cosa, l'ho detta per tutto il tour del Festival Bar e adesso è la festa, è il 20 anni del Festival Bar. Se ce la fate, gridate con me, viva la musica, che è il motto dell'estate calda di Canale 5. Brava Marina! Amici, Claudio Cecchetto, veneziano! Carissimi amici, un grossissimo ciao a tutti da Claudio. Ecco, devo dire una cosa, che io per una settimana ho raccontato una cosa non vera, infatti sette giorni fa la cosa è stata veramente entusiasmante, tant'è vero che a tutti gli amici...